allora raga vi voglio svegli e motivati vera tu vai subito in sala riunione e mi rifinisci l'interno della parete un lavoro d'artista come sai fare tu mi raccomando dai mi raccomando riesci a farlo dai ferro tu mi prendi carriola scopa e straccia mi pulisci la sala conferenze voglio tutta l'area libera spazza via ogni cosa non mi interessa vai limpa ok ale tu mi prendi due sacchi di colla e me li porta in una zona piscina mi servono di peso per questo lavoro boom boom e pedalare andiamo è questo pedalare dai come calia andiamo andiamo speriamo bene